Campione, sicuramente forte, fortissimo, uno dei dieci giocatori più forti al mondo del gioco del calcio, ma dopo aveva la dote, quella di farsi volere bene, di farsi amare. Non l'ho mai visto arrabbiato, sempre col sorriso, tante volte mi dicevo che cazzo ci aveva da ridere, capisci? Questo era Ronaldinho, chapeau per tutto quello che ha fatto. Dopo ci ho giocato contro, ho beccato 4-5 elastici, palla c'è, palla non c'è che ancora mi sta girando la testa quando giocava a Barcellona. Un anno l'ho beccato in tournée, eravamo appena arrivati, avevamo dormito solo 7-8 ore, l'ho beccato e mi ha fatto scemo, non vedevo l'occhio a sti cambio perché ho fatto finta che mi faceva male la caviglia perché non me l'ha fatta mai vedere quel giorno.